Buongiorno gatta stellina, ma poverina ma stai comoda così gatta stellina Ciao, buongiorno, buongiorno piccola stellina con gli occhi di smeraldo Buongiorno, anche ieri l'ho spazzolata Era tutta contenta perché le piace tantissimo essere spazzolata Adesso ha sonno gatta stellina, lasciamola riposare Buongiorno gatta, buongiorno gatta E dove cattura ember? Secondo me si nasconde qua so Ciao, ciao Buongiorno piccolo gattino rudo bianco un po' corroncione Buongiorno Dove vai? Dove vai? Ciao amore mio, ciao amore mio Ah, sti racchiamenti Ciao Buongiorno Ehi amore mio Ciao amore mio, ciao Ma quanto chiacchieri tu, ma quanto chiacchieri tu? Questi sono gli sviluppi ragazzi Hanno portato via tutta la montagna di scatoloni che avevo qui nel soggiorno come potete vedere Infatti la casa sembra abbastanza vuota Per sbaglio hanno portato via anche entrambe le librerie Quelle color rover scuro che dovevano rimanere assolutamente qua E però dovranno riportarle perché le hanno prese per sbaglio Comunque questi sono gli scatoloni che ancora devo assemblare Che vorrò ancora utilizzare Ma per il resto non ho svuotato tutto, tutto, tutto quanto Vi faccio vedere perché in realtà sembra tutto in ordine Come se non fosse successo quasi niente Ma queste sono le cose che lascerò qui Ma per il resto ho svuotato tutto quanto Queste che vedete appunto sono solo le cose che rimangono effettivamente nel mio appartamento Anche qui svuotato tutto Tutto vuoto E qui ci sono le cose che ancora mi servono per mangiare fino a quando rimango qua Anche qui svuotato tutto E devo ovviamente Ho ancora cose nella lavastoviglia Anche qui ho già svuotato tutto Le cose che appunto vedete sono quelle che rimangono effettivamente qui nel mio appartamento E anche qua sotto ho lasciato soltanto la pappa per i gattoni Che mi servirà in queste due settimane che sono ancora qua Per il resto tutto vuoto Vi faccio vedere il mio studio Anche qui la situation è abbastanza diversa Questo lato naturalmente che è il lato che vedete nel background dei video È ancora intatto perfettamente sia da questa parte qua Che da questa parte qua Questi poi li porteranno via direttamente con tutti i trucchi all'interno Vado soltanto a metterci lo scotch Ho fatto così quasi in tutti i traslochi Negli ultimi traslochi ho fatto così Stessa cosa anche per l'altro mobiletto appunto Lo scoccerò tutto perché andare a togliere tutto quello che c'è qua dentro Sarebbe un'impresa epocale e molto lunga Comunque vi faccio vedere l'altra parte Che è decisamente diversa Perché non c'è più il divano Come potete vedere Manca anzi devo anche impacchettare questo tappetino Perché lo porto con me Manca il divano Anche le decorazioni Ho tolto tutto quanto E appunto qui c'era il divano L'hanno già smontato e portato via E qui c'era la piccola libreria Con tutte le cosine Anche quella smontata e portata via È molto strano vedere il mio studio così Così vuoto Non lo so È molto molto strano Qui ricomincia una nuova montagna di scatoloni Perché naturalmente nel frattempo Ne ho già preparati molti altri ragazzi Ma sono a buon punto Mi manca pochissimo Praticamente non c'è più niente in casa Qui ci sono Guardate ho anche le etichette personalizzate Con il mio nome La città ed il paese di destinazione Questo è lo scatolone numero 81 Uno mi piace perché sono estremamente organizzati Sono molto professionali Hanno documentato tutto quanto Ogni scatolone numerato Con il contenuto di ogni scatolone Hanno scritto tutto Cioè veramente devo dire Mi sto trovando molto bene Questi sono scatoloni che vanno Nell'armadio E se avete visto uno degli ultimi vlog Vi dicevo appunto che Omara significa armadio in sloveno E quindi presumo qui ci siano Vestiti, scarpe, non lo so Qui c'è un'altra bellissima montagna di scatoloni Questo è quello che sto ancora riempiendo Che è letteralmente più alto di me E qui ci sono appunto un sacco di altre cose Nel frattempo è arrivata anche la spesa Che devo mettere via Ho già messo via i sorgelati E qui anche ho svuotato tutto ragazzi Notare, vabbè lasciate stare il letto Che devo cambiare le lenzuola È un disastro Però ho svuotato tutto Quanto ho portato via Anzi hanno già portato via lo specchio Il comò rimane Le mensole sono vuote Anche l'altro comò è vuoto Ho svuotato anche gran parte del bagno Non completamente però Queste sono le ultime cosine che lascerò E poi devo ancora svuotare tutto quello che c'è qua dentro Però ho svuotato completamente le mensole sopra la porta E anche da qui ho tolto gran parte delle cosine Che non mi servono proprio adesso in queste due settimane Anche qui ho lasciato soltanto l'acqua micellare La crema occhi Insomma il balsamo labbra Il resto l'ho già tolto Stessa cosa per la cabina armadio Ho già svuotato tutto quanto dai vestiti Ci sono ancora le borse Perché come sapete queste non le lascio a nessuno Queste le porto io personalmente in Olanda Quindi queste rimangono qua fino all'ultimo secondo Qui ci sono vabbè Vestiti sparsi Che sono quelli che userò in queste due settimane Per il resto è già andato tutto via Lì ci sono ancora un paio di borse Chanel E qui Appunto Ho svuotato Tutto 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 E anche qui i cestini sono vuoti Qui ho lasciato solo il mio profumo Givenchy Che è l'Inter D Spero di averlo pronunciato bene Adoro questo profumo Questa è la seconda No la terza boccetta che finisco Da quando è uscito Sto usando cos'era Inizio 2018 credo Sto usando soltanto questo Lo adoro Se non lo sapevate ancora Perché ne ho parlato migliaia di volte Adesso lo sapete E ne sto finendo un'altra Tra l'altro E basta Questa è l'unica cosa È un elastico per capelli L'unica cosa che mi sono rimaste qui sul comò Ho impacchettato tutti i profumi Uno per uno Quindi sperando che non si rompano Ma sono contenta Perché anche qui Veramente ho praticamente svuotato Tutto tutto quanto Ah sì i gioielli Come vedete ci sono ancora Perché anche questi Come le borse Li porterò io personalmente E però per il resto Questo insomma È fatta ragazzi Adesso visto che è arrivata la spesa Nel frattempo Ragazzi Metteremo Tutto quanto via Nel frattempo Come potete sentire Denver Vuole la sua scatoletta Questa è tonno Se riesco Scusate il casino Questa è tonno Pollo e formaggio Sempre Almonnature Sì Denver Arriva 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 Buon appetito Gatti Buon appetito Sembrano apprezzare Gatto Denver Tra l'altro Non gestisce benissimo Lo stress E quindi Probabilmente Non lo vedrete Ma io me ne accorgo Soprattutto Accrezzandolo Ha perso un po' di peso Perché è un po' stressato Quando ci sono Gli operai Qui della ditta Di traslochi Gatto Denver Non mangia Fino a quando Appunto Non c'è più nessuno Non gli piace il rumore Quindi Sto cercando Di tenerlo tranquillo Di farlo mangiare Nei momenti in cui c'è calma Perché Non voglio che Cioè Non voglio dire Che sia magrissimo Però Ha perso Un po' di peso In pochi giorni Quindi Voglio stare attenta Che mangi Insomma Gattastellina invece Non ha di questi problemi Gattastellina Che ci sia La guerra fuori O qualsiasi cosa Lei mangia Dorme Tranquilla Problemi non ne ha Comunque Buon appetito Gattoni E continuo A mettere Via la spesa Ecco le cosine Che ho preso Allora Vabbè Niente di interessantissimo Ma sono due saponi Per i bagni In modo che io possa Prendere il portasapone Con la saponetta Questi rimangono qua Poi ho preso Due confezioni Di gran cereale Quello croccante Con il riso Sono buonissimi Ragazzi Questi se non li avete Mai provati Li consiglio Molto caldamente Poi ho preso Le sottilette File fondi Con mozzarella Sono fantastiche Sto facendo i nachos Ultimamente E sono pazzesche Poi ho preso Mamma mia ragazzi Mi sto ingozzando Di burrata Negli ultimi mesi Cioè nell'ultime settimane In realtà Che è veramente Scandaloso Però visto che so Che non la troverò In Olanda Penso che sia Un po' giustificato Forse circa Poi ho preso Tre pesche Banane Poi ho trovato Questi cereali Pandistelle Visto che i pandistelle Sono i miei biscotti Preferiti Voglio assolutamente Assaggiare anche i cereali Visto che appunto Poi in Olanda Non avrò la possibilità Di provarli Quindi sto approfittando E poi ho preso Questo è un affettato E tacchino arrosto Poi ho preso questi Sono i fruttolo Con gli smarties Ragazzi E in realtà Uno snack Per bambino Ma vi posso assicurare Che sono la fine Del mondo Sono stra buoni E poi Ah si Poi ho preso I pretzel Mi sono già Mangiata Un morso di uno Sono stra buoni Io li adoro E sono arrivati Che erano ancora caldi E poi Vabbè Ho preso I guanti Insomma In lattice Per pulire casa Eccetera E poi ho preso Gli esta tè zero Che come sapete È il mio Tè zero Preferito Rigorosamente Alla pesca Poi Voglio provare Allora Vabbè Ho preso Il La mia solita Bevanda Come la chiamano Il mio solito latte Alla mandorla Ragazzi E poi Ho preso Anche Queste nuove Non lo so Sono dei Praticamente Delle bevande Di Vitasnella Senza zuccheri Senza calorie Con Linfa di betulla E questa invece Con aloe vera Hanno vitamine Magnesio Insomma Mi sembravano Interessanti E quindi Voglio provarle E poi Niente Ho preso L'acqua Ah si ragazzi Ho preso Anche Una vaschetta Di profiterol Non so Perché Mi hanno Portato Sia questa Gigantesca Da 600 grammi Eccola qua Che un'altra Da Altri 232 grammi Quindi Spero che Mio papà Che stasera Viene a mangiare Quella pizza Abbia voglia Di profiterol Perché Veramente Ne ho Acquintalate Questi invece Sono Pesto Normale Classico Vegan E questo Pesto Rosso Anche Questo Vegano Per Per portarli A Demelza E Vic Così Che possano Assaggiarli E se Se gli piacciono Posso portargliene Poi altri Poi ho preso Anche Questa Che è tipo Una mozzarella Praticamente Sempre vegana Che porto Anche queste Le porterò A Demelza E Vic Eccomi qua ragazzi Ho fatto la doccia Devo ancora sistemare I capelli Tra un po' Mi truccherò Anche In realtà Volevo mangiare Qualcosina Ma Non voglio Fare colazione Perché Ho mangiato La scorsa notte Tardissimo Ragazzi Mi sono fatta Il panino Con il prosciutto Grudo Quindi Vorrei evitare Di mangiare Tantissimo Anche adesso Appena sveglia Però Un pretzel Ragazzi Già manco un borso Come ben potete notare Veramente una colazione Atipica Oggi Ma prima ho mangiato Due albicocche E adesso E adesso Sgranocchierò Solo questo pretzel Anche perché Poi più tardi Viene mio papà E appunto Mangiamo la pizza E probabilmente Anche il profiterol Quindi Fino a quel momento Può bastare Momento trucco Ragazzi Mamma mia Questo trasloco È talmente incasinato Cioè In realtà In realtà Non sono mai stata Meno stressata Per un trasloco Come questa volta Perché in realtà Me la sono presa comoda Ho iniziato Già durante La quarantena Vi ricordate Con i vari decluttering Quindi devo dire Che ho dato via Un sacco di roba Un sacco di vestiti Un sacco di trucchi Che mi hanno E anche un sacco di cosine Che avevo in casa Che però Cioè Non usavo mai O magari soprammobili Cose che veramente Erano un po' inutili E quindi Questo ha aiutato tantissimo Anche perché Ho già Praticamente Non vorrei dire Completamente Perché oggi Ci sarà altro Lavoro da fare Per riscatolare Però Sono veramente A buon punto Perché ormai Non manca tantissimo Perché Allora Questa settimana Come vi dicevo Per una giornata intera Sarò a Milano Un'altra giornata Avrò invece Un ospite qui E filmeremo assieme E sono molto curiosa Di vedere Se indovinerete Di chi si tratta Perché è stata anticipata Questa collaborazione Quindi Sono molto contenta Poi La prossima settimana Quella dopo Quando è Comunque A fine mese Vado in Olanda Perché mi arrivano i mobili Vado a vedere la casa Naturalmente Vado a Capire Quali stanze Voglio usare Per che cosa E poi Perché appunto Come sapete Ho quattro stanze da letto Ma non so esattamente Come suddividerle ancora Cioè ho tantissimo spazio Ma devo un attimino Vedere dove fare La cabina armadio Barra Le due cabine armadio Voglio vedere Dove fare il mio studio Dove fare la stanza da letto E insomma E poi Mi arrivano i mobili Quindi devo stare lì E poi Mi arriveranno Anche Gli scatoloni Tutte le cose Che verranno Già a prendere E qui Il 26 Vengono a prendere Tutte le cose Quindi ragazzi Considerando che Due giorni questa settimana Dovrò Dedicarli ad altro E non al trasloco Considerando che Poi appunto Il 26 Vengono qui a prendere Tutto Oggi siamo Il 14 15 14 Quindi devo dire Che è abbastanza Devo dire Non ho tantissimo tempo Però sono già Appunto A buon punto Quindi ragazzi Non meravigliatevi Se in questo trasloco Continuerete a vedermi Vestita in tuta Vestita comoda Con poco trucco Perché naturalmente C'è un sacco Di lavoro Da fare Comunque questa Ve la devo dire Voi mi fate impazzire Siete troppo forti Allora Prima mi dite Nicole Devi restare single Mi raccomando Che poi se noti Che poi se noti Riproveriamo E mi raccomando Ok Arriva Neil Nei miei video Sempre voi Nicole Rimettiti con Neil Nicole Siete una coppia stupenda Dagli una seconda chance Ragazze Ragazzi Mi fate veramente Morire Morire da ridere Siete troppo forti Siete tipo L'amica romantica Che prima Mi dice Nicole Mi raccomando Adesso Basta Uomini Tu Indipendente Poi non appena Arriva Lex Voi romanticoni Nicole Rimettiti Ragazzi Mi fate veramente Impazzire Però Questa volta Sono io A dirvi Ragazzi Io voglio restare Single Voglio andare In Olanda Da sola E fare Questa Esperienza Di vita Quindi Non E poi Ragazzi Il sentimento Se c'è C'è Se non c'è Non c'è Non è che si può dire Nicole Facci un pensierino Nicole Perché mi viene detto E sono tutti bei consigli Naturalmente Sempre perché Vi eravate affezionati a noi come coppia E quindi Mi fa anche molto piacere Ve lo dico sempre Però Se un sentimento c'è C'è Se un sentimento non c'è Non c'è Quindi Appunto Se c'è un sentimento Di amicizia Di Come vi dicevo Appunto Già ve l'ho detto Però Mi fate impazzire Quindi decidetevi ragazzi Cioè Da una parte volete che io sia single Dall'altra volete che mi rimetta con Neil Cioè decidetevi No però A parte gli scherzi Lo sapete Il mio obiettivo Parlando seriamente È proprio quello di Restare da sola per un po' Perché proprio è quello che voglio E di andare in Olanda E fare questa esperienza Proprio per me stessa Per nessun altro Pensando a me stessa Godendomi anche i frutti del mio lavoro E facendo quello che voglio fare Proprio perché Ho la possibilità di farlo Quindi sono Ecco questo è al momento Il mio obiettivo ragazzi Quindi rimanete con me Sulle rotaie Del treno di questo obiettivo Non so se si è capito Comunque Penso Penso abbiate capito Quello che ho detto Anche se non l'ho espresso tanto bene Comunque Adesso Ho messo Il primer di Too Faced Hangover Un sacco di cifre sulla fronte E poi Il fondotinta Nudissimo Di Diego Della Palma Che adoro Da quando è uscito Sto praticamente usando solo quello E poi Abbondiamo con la cipria In questa zona Che tendo sempre ad essere Molto lucida Ok E poi Ho steso sempre La cipria Di Jeffrey Star È un'ottima cipria Ma bisogna stare attenti A non metterne troppe Altrimenti ti fa proprio L'effetto Mascherone Comunque Come vi dicevo appunto Sarò a Milano Questa settimana Vedrò Chiara Anche Issima Penso che ci sarà anche lui Lo spero davvero Ma penso di sì Quindi sono stra felice Finalmente conoscerò Issima E finalmente rivedo Chiara Che non ci posso credere Durante la quarantena Sembrava non Non ci vedessimo più Eravamo disperate E Non mi sembra vero Vi giuro Non mi sembra vero Però volevo chiedervi I ragazzi Di Milano Della Lombardia Eccetera Come sono Naturalmente mi informerò anche io Però Come so Come la situazione da voi Nel senso Qui la mascherina Non è obbligatoria All'esterno Però penso che In Lombardia E a Milano Lo sia giusto Non solo nei posti chiusi Ma è obbligatoria Anche all'aperto Vero? Mi sa di sì E quali altre cose Devo sapere Perché Sto tornando Naturalmente Questa settimana Per la prima volta A Milano Dopo Dopo il covid Dopo tutto quello che Appunto è successo Quindi vorrei Capire esattamente Come devo muovermi E se ci sono altre cose In particolare Da sapere Altri accorgimenti Altri Non lo so Avvenimenti Cose A Milano E appunto Voi ne sapete più di me Se siete della zona Quindi Se mi date una mano Mi fa davvero piacere Che tra l'altro Ragazzi Non ci sono treni Cioè Allora Le frecce Dirette Ce ne sono una Da Trieste Assurdo A Milano A Milano Però È tipo di pomeriggio Sera Quindi Non posso prenderla Perché ovviamente Io devo arrivare a Milano Molto prima Vado finalmente A prendere l'Invisalai Ragazzi Evviva E sono molto emozionata Anche per questo progetto Ragazzi Comunque Appunto Non ci sono treni Cioè tipo Sì Potrei prendere Un treno regionale Che non è diretto Però potrei fare il cambio Mestre E potrei andare Con quello Delle 8 E qualcosa Che mi arriva A Milano Alle 13 E qualcosa Che sarebbe anche perfetto Il problema è che poi Non ho treni per il ritorno Perché non ci sono Più treni Dopo le 17 E quindi non ce la farei mai A prendere quello Ma anche se io Riuscissi a prendere quello Devo cambiare Tre treni Con un cambio Ragazzi A Verona Di 7 minuti Cioè Io Un cambio Di 7 minuti In questo periodo Che tutti i treni Hanno problemi Non me lo rischierei Perché Perché quello È l'ultimo treno E se poi Non prendo la coincidenza Rimango bloccata A Verona Fino alle 6 Di mattina Del giorno dopo Quindi Purtroppo andare in treno Da Trieste Non è fattibile ragazzi Questa cosa è terribile Molto probabilmente Dovrò Prenotare Cioè dovrò Affittare una macchina Per andare In quella giornata A Milano Avevo chiesto A mio papà Di accompagnarmi Solo che lui va in vacanza Quindi io lo vedo oggi E poi lui se ne va A Riccione Almeno per 3 settimane Mi sa Ci va ogni anno Lui è tipo La sua compagnia lì Tutti i suoi amici E quindi sono contenta Per lui Mi ha anche chiesto Se volevo che Restasse qui Per aiutarmi Con il trasloco Ma onestamente Voglio che si goda Mio papà è in pensione Voglio che si goda La sua pensione Voglio che si goda Le sue vacanze Anche perché qui ormai Cioè non c'è più Tantissimo da fare E quello che Che si farà Lo farà l'azienda Dei trasporti Cioè dei traslochi Che devono semplicemente Venire e prendere Gli scatoloni Quindi Gli ho detto Papà vai tranquillo Goditi un po' di ferie Che anche lui È rimasto chiuso a casa Essendo anche Soggetto a rischio Mio papà Quindi non si è mosso Affatto E quindi finalmente Adesso Si godrà un po' di vacanza Quindi oggi Lo vedo per l'ultima volta Per non lo so quanto Perché io poi appunto Vado in Olanda E quindi Fino a Penso Di tornare Io ad agosto Giù in Italia Fine agosto Inizio settembre O agosto Comunque O forse anche Inizio agosto Quindi Non passerà mai Tantissimo Ogni volta che ci vediamo In realtà Come vi dicevo E se mi conoscete Dai tempi di Quando abitavo in Olanda Anni fa Lo sapete che comunque Torno molto spesso In Italia Quindi Insomma Non mi preoccupa Più di tanto La distanza Mi avete chiesto In tanti Il fatto che Avendoci già vissuto So che comunque Tornando giù Li vendo spesso Quando voglio Perché è un po' Tutto un fatto Di Come dire Dipende un po' La prospettiva Cioè io ho amici Che abitano negli Stati Uniti E mi dicono Cavolo Nicole In Olanda Sarei comunque Strafortunata Hai i tuoi genitori A un'ora e un quarto Di aereo No? Perché per loro Cioè loro devono farsi Un volo di 12 9 10 ore Più voli Per arrivare Per arrivare Dai loro familiari Quindi In realtà Non mi preoccupa tantissimo La distanza Però naturalmente Mi mancheranno Me lo chiedete in tanti E beh sì È ovvio Mi mancheranno tantissimo Mia mamma Mio papà Tutti i miei amici Che ho qui Naturalmente mi mancheranno Tantissimo Però Però Verranno a trovarmi Questo poco Ma sicuro Già con Chiara Ci stiamo organizzando Per le volte in cui Verrà a trovarmi Tipo Questa cosa è fantastica Allora ragazzi Non farei Grandissime cose Per quanto riguarda Il trucco Proprio perché Passerò la giornata Sto passando la giornata A casa A preparare scatoloni Però voglio comunque Truccarmi un pochino Perché sono tipo Quattro giorni Che non mi trucco Una cosa del genere Ragazzi E ho dedicato Tutte le mie forze Veramente al trasloco By the way Non c'entra nulla Ma ragazzi La laminazione sopracciglia A differenza di quella Delle ciglia Vi devo dire Che non mi è piaciuta Tantissimo Perché Mi ha come appiattito Le sopracciglia Boh Non lo so Non è che mi dispiaccia Però le sento più rigide E come se ci fosse Ancora il prodotto Sopra Mi dà un po' fastidio Perché non mi Danno L'idea di pulito Non so Spiegarla bene Questa cosa Però Boh Non lo so Non C'è un effetto strano Che ti dà Questa laminazione Sopracciglia Può essere che io La provi Magari in un salone Dove Ci sono persone Che già hanno Esperienza nel farlo Perché come sapete Io sono andata Proprio a caso Seguire le istruzioni Al meglio Delle mie competenze In materia E quindi non Può essere che io Non sia stata Proprio bravissima A farlo Però vi devo dire La laminazione ciglia Mi piace Quella per sopracciglia Almeno per il momento È un po' Un Da notare tra l'altro I vocali che io e Chiara Ci mandiamo Infiniti Devo ancora rispondere Agli ultimi suoi vocali Mi fa sempre Piacere Specialmente quando Mi trucco Mi ascolto sempre I suoi vocali E le rispondo Perché ho questo momento Proprio di tranquillità Di serenità Di relax E quindi Sì Ci sentiamo sempre tantissimo Soprattutto tramite Tramite vocali Non mi sembra vero Che presto la rivedrò Vabbè Sono emozionata ragazzi Sono emozionata E si vede Facciamo anche L'altro sopracciglio Anche se Come in tanti Mi avete detto Le sopracciglia Non sono Gemelle Ma sorelle Però vorrei dire Che le mie Forse sono cugine Perché sono Completamente asimmetriche Non c'entrano nulla Ecco Li vedete Questi Peretti Che mi sono rimasti Tipo Ad uncino Orrendi Ecco La laminazione Sopracciglia È difficile da fare Se non siete Se non siete Esperti Presumo Che sia per questo Che non mi è piaciuto Tantissimo il risultato Tra l'altro ragazzi Ultimamente Trucchetto con il piegaciglia Che ho scoperto Che non va tenuto così Ma piuttosto va tenuto così E noto che in questo modo Le ciglia Si incurvano Molto di più Verso l'alto E Non lo so È un metodo che Mi sta Piacendo E credo che funzioni bene Almeno sulle mie ciglia Comunque ragazzi Non ero certa Di voler fare un altro vlog Perché lo sapete Mi piace Cambiare con i contenuti E Appunto Non Ho paura di annoiarvi Non lo so Ho paura di annoiarvi Con tutti questi vlog Anche perché ragazzi Voi mi chiedete il vlog Del trasloco E Quindi io li faccio Ok Quindi anche oggi Sto facendo un vlog Perché me li chiedete Tantissimi Solo che Io ho paura di annoiarvi Perché Le uniche cose che faccio Durante il trasloco Naturalmente È inscatolare roba Preparare Chiamare Fare chiamate Per esempio Ieri Ho Ho spedito Le mail di disdetta Per quanto riguarda La linea internet Quindi ci sono tutte queste cose Che sono molto noiose E poi vabbè Ovviamente In scatolare Tutto quanto Quindi Io spero Veramente Che vi piacciono Questi vlog Perché In tantissimi Me li chiedete Ma ho sempre paura Di Di annoiare D'altra parte Che magari penso Magari gli altri Non me li chiedono E quindi poi Non gli piace Però Appunto La mia vita Per il momento È questa Ragazzi Sono nel bel mezzo Di un trasloco Internazionale Quindi Non è semplice Creare altre tipologie Di contenuto Quindi Se vi piacciono I vlog A me fa molto Molto piacere Perché è un periodo Che Più Aiuto Ho sbavato un po' Con il mascara Più di Tante tipologie Di video Non posso fare Purtroppo Quindi Spero davvero Che vi piacciono Ma visto che me li chiedete In tantissimi Penso proprio di sì Perché avevo Non lo so Volevo fare un'altra tipologia Di video E poi mi sono detta No Ok Nicole Se te li chiedono Così in tanti i vlog Evidentemente Significa che piacciono E quindi falli E quindi sto Appunto Sto cercando di tenervi Quanto più partecipi Nella mia vita In questo momento possibile Beh Lo faccio sempre in realtà Però in questo momento So che vi piace Il fatto di capire Come Cioè Cosa ho organizzato Cosa bisogna fare In un Trasloco Di questa portata E quindi sto cercando Di portarvi Con me Step by step Se ci sono ragazzi Ragazze Persone che vogliono Trasferirsi all'estero Perlomeno in un paese Della comunità europea Perché poi ovviamente Se si va Fuori dai confini Dell'Unione europea Poi le cose cambiano E si complicano Ma Se appunto Volete fare un trasloco Nell'Unione europea In un paese Dell'Unione europea Sicuramente Vi possono essere utili Le cose che vi racconto Tra l'altro La cosa con cui Ho avuto più difficoltà Di tutte Stranamente E fare il passaporto Per Gatto Denver Che ancora non ce l'ha Cioè ce l'ha Ma non aveva Il microchip Infatti la mia veterinaria Non capisce Come hanno fatto A rilasciargli Il passaporto Senza mettere Il microchip Però Così hanno fatto In Olanda Quindi non lo so Però Quindi devo rifare Il passaporto E metterci Sul microchip Quindi rifarlo E Però Ragazzi La cosa strana Ok stavo guardando Se ho piegato bene Le ciglia Perché sto perfezionando Ancora questa tecnica La cosa assurda Che vi avevo raccontato La veterinaria Mi aveva detto Di andare in farmacia A prendere appuntamento Credo di avervela raccontata Questa cosa Non sono sicura Mi sa di sì Sono andata in farmacia A prendere appuntamento E il tizio della farmacia Mi fa No Non possiamo Perché c'è il covid E gli faccio mai La veterinaria Che mi ha mandato Qui da lei E lui No La veterinaria Si è sbagliata Poi sono andata Dalla veterinaria E la veterinaria Mi ha detto No Veramente si sbaglia lui Perché abbiamo ricevuto circolare Che dal primo giugno E sono riaperti Insomma Tutti gli uffici Per quanto riguarda Le anagrafe Degli animali Da compagnia E quindi Vanno Insomma Si possono fare tranquillamente I passaporti E quindi La veterinaria Mi ha inoltrato Ha inoltrato Sulla mia mail Questa email Circolare Che hanno ricevuto loro E Come prova Per il farmacista Perciò Perché mi prendesse appuntamento Per andare a prendere Questo passaporto Che Anche la burocrazia Per andarlo a prendere Il passaporto È un po' assurda Una volta Te lo dava direttamente La veterinaria E in Olanda Te lo dava direttamente La veterinaria Non capisco Non capisco questa cosa Di dover Prendere appuntamento Per poi andare lontanissimo Fuori il centro di Trieste A darlo a ritirare Che potrebbero Semplificarle le cose Invece che complicarle Ma vabbè Probabilmente ci saranno Altri perché E quindi Sono tornata in farmacia Con questa mail Ma il tizio Continua a rifiutarsi Di farmi Di prendermi L'appuntamento Per andare a prendere Il passaporto E quindi Mi sono rivolta Ad un'altra farmacia Naturalmente Ho cercato Perché non tutte Prendono appuntamenti Per quanto riguarda Appunto i passaporti Per gli animali E quindi Ne ho trovato un'altra Finalmente Dopo varie chiamate Insomma Un po' un casino E sono riuscita Poi altri mi dicevano No Non si prende più Appuntamento Quindi Vabbè E poi Alla fine Sono riuscita A trovare Questa farmacia Oggi naturalmente È domenica Ma ci vado Lunedì Ci vado domani E finalmente Posso prendere Appuntamento Poi il passaporto Ve lo danno Immediatamente Quindi questa è Un'ottima cosa A meno che Non abbia un pedigree Però Deber Non ha il pedigree In tantissimi Mi chiedete Che razza è Ragazzi Demer è un birmano Però Ha tipo Un quarto Di siamese Una roba del genere Ed è un Red point Oh mamma mia Ragazzi Ma anche voi Starnutite sempre Infatti mi si stanno Arrossando gli occhi Anche voi Starnutite sempre Dopo che vi siete Messe il mascara Non capisco Se sono io Che sono allergica O è tipo Il fatto che le ciglia Vengono Smosse E ti fanno Un po' di solletico E quindi poi Ti viene da starnutire Non lo so Ma mi succede sempre Oggi miracolosamente Ragazzi Di solito mi sbavo Tutto il mascara Ma oggi Miracolosamente Non è successo Notare Notare E ancora Perfetto Comunque vi dirò Che l'effetto Della laminazione ciglia Laminazione sopracciglia Scusate Con la matita Non mi dispiace affatto Voglio sapere Che cosa ne pensate voi Perché nel video Appunto Non vi avevo fatto vedere E poi me ne son pentita Non ci avevo pensato Al momento Non vi avevo fatto vedere Le sopracciglia Con la matita Adesso invece Potete vedere Il risultato Sono curiosa Di sentire Che cosa mi direte Adesso manca Soltanto Il rossetto Andrei ad applicare Questo di Banana Beauty Questo è il Chill Queen Non è un contenuto Sponsorizzato Questo è semplicemente Ragazzi Che come sapete Io collaboro Solo con brand In cui credo davvero Perché i loro prodotti Mi fanno impazzire E mi piacciono davvero Quindi i prodotti Dei brand Con cui collaboro Non solo li vedete Nei contenuti sponsorizzati Ma li vedete anche Nella mia vita Di tutti i giorni Perché li uso Perché mi piacciono Soprattutto gli ultimi Nude Che sono usciti Sono favolosi Questo dovrebbe essere Un pochino più scuro Rispetto ai miei soliti nude Soliti nude Perché Questo era uno Dei miei preferiti My homie Lo vedete È decisamente più chiaro Un pochino più rosato Rispetto a questo Ma mi stanno piacendo Ultimamente anche rossetti Sempre sulle tonalità nude Però un pochino più Non voglio dire scuri Ma un pochino più Pigmentati Diciamo E questo Secondo me È un colore Meraviglioso Davvero Ok adesso Basta Aspettare qualche secondo Perché si asciughi Completamente Ma Devo dire che vi piace Un sacco Proprio un bel colore Anche molto naturale Alla fine Perché le mie lastra Naturalmente Sono Lo sapete Sono molto scure Sono molto pigmentate Quindi più o meno ci siamo My lips but better E adesso Non mi resta Che andare A Fissare Il make up Vado ad usare di nuovo Il Hangover Spray Peach E voilà ragazzi Trucco Completato Base Molto Luminosa Con l'illuminante Ho usato Sempre quello Del duo Blush Illuminante Di Wicon Il rossetto Banana beauty Che sto adorando Solo un po' Di mascarazzi Tanto mascara E anche questo È di Wicon Ed è Vi faccio vedere E questo è il no gravity E ragazzi Mi sta piacendo Tantissimo Perché non crea grumi Ed allunga veramente Tanto tanto le ciglia Che cosa ne dite voi Sono molto curiosa Di sentire anche Che cosa mi direte Per quanto riguarda Le sopracciglia Perché sto Seriamente pensando Di andare a farle Dall'estetista E E poi di continuare Perché non mi dispiace Un po' l'effetto Sopracciglio Pettinato Perché io ho Tante sopracciglia Folte Molto lunghe Molto spesse Purtroppo Non i capelli Ma le sopracciglia Sì E quindi Non mi dispiace L'idea di averle Belle pettinate Però appunto Secondo me Io non Cioè Non sono Secondo me Sicuramente Io non sono un'esperta Quindi mi piacerebbe Farlo fare da qualcuno Che ne sa qualcosa E sicuramente Otterrò un risultato Ancora più bello Di quello che già ho ottenuto Che comunque appunto Non mi dispiace Però secondo me Sono molto meglio Con la matita Piuttosto che senza Anche con la laminazione Fatta Che cosa ne dite voi Comunque adesso Non mi resta Che sistemare i capelli Li piastrerò Un pochino Perché i miei Sono molto piatti E le extension Invece hanno qualche Lieve onda Quindi vado A passare giusto La piastra E poi Siamo pronti Per andare Ad inscatolare roba Stavo per dire E poi sono pronta Per uscire Fare chissà che roba figa Invece purtroppo Non posso Perché non c'è niente Di figo Che devo fare Però Si può considerare figo Un trasferimento In Olanda Quindi Diciamo di sì Dai Ok Ennesimo scatolone Quasi riempito Fino all'orlo Sto svuotando Tutto quello Che era rimasto Qui Nella mia stanza E continuiamo A prendere Le cosine Dal bagno Che qui C'è parecchia Roba E anche parecchio Casino Un po' imbarazzante Svuotato Completamente Anche Questo mobiletto Del bagno Ho lasciato All'interno Soltanto le cosine Che utilizzerò In queste due settimane Che sono ancora qui Il resto È fatto Anche questo scatolone È fatto Il numero Cento E tre Ragazzi Eccoci qua E adesso scrivo Anche la stanza Appunto dove andrà Spalna soba Significa camera da letto Soba significa stanza Camera stanza E spalna da letto Praticamente Quindi sto scrivendo Tutto in sloveno Perché naturalmente L'avevo già detto È una ditta slovena Quindi è importante Che loro capiscano E poi ci scriviamo Anche Perché ci sono Le Abajur Fragile Sì Sì Racconta Cosa c'è Amore mio Che cosa c'è Piccolo Gettino Non ti preoccupare Non ti preoccupare Carole Perché non succede niente Lo so che è un po' stressante Tutto ciò Ma finirà presto Finirà presto Amore mio Sì Amore mio Ti sei svegliato Ho fatto tanta nanna Gatto d'enver Oggi Tanta nanna Tanta nanna Nuovo scatolone Quasi riempito Sono nel mio studio Ed ho svuotato Questa parte Sto svuotando La scrivania Notare cosa ho trovato Ragazzi Ci sono gli scettri Di sailor moon Alcuni miei giochi Che vi ho anche fatto vedere Nel video Che vi ho fatto dedicato Questo era il primo scettro Di sailor moon Ragazzi Ve lo ricordate Penso fosse il primo Se ricordo bene E decisamente Era il mio preferito Potere del cristallo Di luna Vieni a me E qui sopra C'è anche L'anello Eccolo Non mi entra più Naturalmente Perché è minuscolo Non notate le mie unghie Che devo rifare il semi permanente Comunque Bellissimo Bellissimo L'anello di sailor moon Sì Questo scettro invece Secondo me Era più verso L'ultima O la penultima Serie Anche decisamente Più grande Anche questo bellissimo Naturalmente Rigorosamente Rosa Poi c'era anche Questa penna magica Ma non mi ricordo Esattamente La funzione Nella serie Mi ricordo Che La usava Non mi ricordo Se la usava Proprio sailor moon Non lo so Se ve lo ricordate Fatemi sapere Che mi interessa un sacco Perché mi sono decisamente Dimenticata di questo Però anche questa Bellissima Poi allora Questa devo Lasciarla fuori Perché è la custodia Della mia videocamera Mi è stata regalata Da youtube Ed è perfetta Per la mia reflex Quindi Questa Resta fuori Poi qui Abbiamo Questo Beauty case Gigantesco E bellissimo Devo dire Veramente Di Fenty beauty Eccolo qua Ho trovato Anche questi rossetti Che in realtà Avevo preso Un sacco di tempo fa Per un video Poi non l'ho mai girato E mi sono rimasti Sono quei rossetti Molto Molto belli Molto strani Perché sono Semi O trasparenti O semi trasparenti Ed hanno All'interno Lo vedete Un fiore E ho anche Quello Rosa Che secondo me È ancora più carino Ancora più trasparente Lo vedete il fiore Sono meravigliosi In realtà Sono tipo dei balsami Labbra Sono praticamente trasparenti Ma è un peccato utilizzarli Sono troppo 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 belli Ecco Forse così Riuscite a vederlo Più da vicino Guardate che meraviglia Anche questo scatolone È completato Chiuso Numero 104 E ci scriviamo su Come al solito Studio Perché questo va Nello studio E poi qui Ci mettiamo Anche fragile Perché ci sono Trucchi preziosi E i miei giocattoli Quindi devono stare attenti Tac Fatto Ho ritrovato Questi due ritratti Meravigliosi Che mi hanno fatto Non mi ricordo Se è sempre la stessa ragazza Oppure no Mi sta venendo il dubbio Perché non vedo la firma Però sono entrambi meravigliosi Guardate ci sono io Con Gata Stellina E Garudember Con tutti i prodottini make up Bellissimo Veramente E poi invece Da quest'altra parte C'è questo Fatto a matita Che ragazzi È meraviglioso Io rimango sempre Veramente Meravigliata E assolutamente Colpita Dal vostro talento Siete Pazzeschi Veramente E spero che Le due ragazze Che hanno fatto Questi disegni Continuino a disegnare Perché hanno un talento Veramente Pazzesco Pazzesco Quindi Bellissimi questi Non lo so Volevo solo farveli vedere Sto ritrovando cosine E Ho dei bellissimi ricordi E anche la scrivania È stata svuotata Completamente ragazzi E anche lo scatolone Numero 105 È fatto ragazzi Sono qua con mio papà Che mi sta aiutando A togliere le macchie Dal muro Nel frattempo Sono arrivate le pizze Che vi faccio vedere Velocemente Poi mangiamo Io ho preso La cocò Prosciutto E uovo Che prendo molto spesso E tutti mi prendete in giro Ma è buonissima Provatela Qui si chiama cocò E il mio papà Invece Ha preso Tonno E cipolla Ragazzi Eccola qua A me il tonno piace Ma la cipolla no Tantana Però è un buonissimo Profino Gatto Denver Come al solito Riceve sempre qualcosa Fortunello Non so se l'avete mai sentita Ma Qui abbiamo la tv In sloveno E vi faccio sentire un po' E dopo la pizza Abbiamo come bene avete visto 10 kg Di profiterol Mia femmine Mi ha andato via poco fa Sono stata davvero tanto felice Di averlo visto Adesso non so quando lo rivedrò Ma Insomma Comunque conto Di tornare giù Ad agosto Quindi Appunto Non passerà tantissimo tempo Io già sento la mancanza E ancora non me ne sono andata Rendiamoci conto Comunque volevo Condividere con voi Anche una cosa Che non mi son sentita Di condividere con voi Prima E per questo Vi chiedo scusa Perché lo sapete Io Mi apro sempre tantissimo Con voi L'ho sempre fatto Ma ho iniziato a farlo Ancora di più Durante il periodo Della quarantena Cioè dal periodo Della quarantena In poi Perché mi siete stati Tanto vicini Siete stati Tanto Importanti Cioè già lo eravate Ma in questo periodo Della quarantena Mi avete aiutato Talmente tanto Che siete diventati Se fosse possibile Ancora più importanti Per me E quindi mi sono aperta Con voi Proprio al cento E dieci per cento Se prima lo facevo Al novantanove Adesso lo faccio Al cento dieci per cento Però c'è stata una cosa Durante il periodo Della quarantena Che non vi avevo raccontato E praticamente Sostanzialmente E non voglio scendere Nei particolari Ma mia nonna Che è la nonna Della parte di mia mamma Che è l'unica nonna Che ho E è stata male Ha avuto un problema Di salute Quindi non Però non ne ho parlato Io in realtà Sono sempre stata Quella positiva Infatti alla fine È andato tutto bene Quindi adesso Che è passato Tutto quanto Posso finalmente Parlarvene Non so perché Ma c'erano talmente Tante cose Che stavano succedendo Tra lo stalker Poi c'è stato Quel terremoto Che mi ha terrorizzato Il fatto di stare Tanto sola Eccetera E il fatto di non poter Andare a trovare mia nonna Il fatto di non poterle Stare vicino Mi ha Mi è stato Cioè mi ha reso Il tutto ancora più difficile Adesso sta meglio È andato tutto bene E quindi sono Insomma appunto Ve lo sto dicendo adesso Perché finalmente Ho potuto tirare Un sospiro di sollievo E so che Adesso sta bene Non mi devo più preoccupare Ecco però C'è stato un periodo In cui appunto Eravamo Un po' preoccupati Anche se io Sono sempre quella positiva Che cercava di tirare su Mia mamma Tipo eccetera Quindi Appunto adesso Che mi sono tolta Questo peso Ve l'ho raccontato Però Scusatemi Se non ve ne ho parlato Forse Se mi avete vista Anche giù Magari in qualche video Non era solo Per il fatto della quarantena O perché Non potevo trasferirmi Subito Quando volevo Ma era anche per questo Quindi L'importante però È che sia andato tutto bene E adesso riesco a parlarne A cuor leggero Perché In fondo Sapevo che sarebbe Andato tutto bene Però Appunto Non lo so Non mi sentivo Di parlarne Fino a quando La cosa era in Stava succedendo Lo sapete Molto spesso Quando mi succedono Delle cose difficili Non riesco a parlarne subito Ma Mi serve del tempo Per Processare E parlarvene Ecco E quindi È stato un periodo difficile Anche per questo Forse Vi avevo accennato Che c'era una preoccupazione In famiglia Ma poi non vi ho parlato Più di niente Ed era appunto questo Quindi avevo Sia mia mamma preoccupata Che ovviamente Io e tutti quanti Per mia nonna Però L'importante è che sia andato Tutto bene Questa è la cosa importante Quindi anche questa è stata Anzi Questa è stata la fortuna Più grande Di questo periodo Insomma Che lei stia bene E che Basta Questa è la cosa più importante Quindi Mia family Adesso vi saluto davvero Mi raccomando Mettete like a questo video Se vi è piaciuto Lasciatemi un commentino E iscrivetevi al canale Attivate la campanella Mi raccomando Io vi mando Un bacio grandissimo Vi abbraccio Venite qua che vi abbraccio Forte 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 E noi ci vediamo domani Mi raccomando sempre le 17.30 Puntualissimi Penso che anche domani Ci sarà un nuovo vlog Spero che siate contenti Baccio Ciao Vi voglio bene E noi ci vediamo E noi ci vediamo